Dalla sicurezza in tempi di pandemia alla lotta all'evasione fiscale fino al contrasto degli illeciti nel settore della spesa pubblica. È un impegno a tutto campo, quello profuso dalla Guardia di Finanza che oggi, nella sede del Comando Provinciale, ha celebrato il 247esimo anniversario della Fondazione del Corpo alla presenza del prefetto Tommaso Ricciardi. La cerimonia, che si è svolta in forma ridotta, è stata l'occasione per fare un bilancio dei risultati conseguiti lo scorso anno. Più di 2000 sono stati infatti i controlli sul rispetto delle norme anti-covid, 114 gli interventi ispettivi e quasi 300 le indagini per contrastare le infiltrazioni della criminalità economica e organizzata. Inoltre, grazie all'incrocio delle banche dati fiscali e di polizia, sono stati scoperti 28 evasori totali che hanno omesso di dichiarare al fisco una base imponibile di circa 30 milioni di euro. 130 invece sono state le indagini di polizia giudiziaria che hanno portato alla denuncia di 72 persone. Il valore dei beni sequestrati per reati in materia di imposte dirette e IVA è di 4,4 milioni di euro, mentre le proposte di sequestro dottore al valio dell'autorità giudiziaria ammontano a 13 milioni e 600 mila euro. Significativi anche gli interventi svolti nel settore della spesa pubblica che si sono conclusi con la denuncia di 20 soggetti. In particolare, nell'ambito dello sperpero di denaro pubblico, sono stati denunciati alla Corte dei Conti 8 persone individuando circa 5 milioni di danno erariale. Le fiamme gialle hanno posto attenzione anche al reddito di cittadinanza. Scoperti 19 furbetti, oltre 151 mila euro percepiti indebitamente e circa 25 mila euro di contributi richiesti ma non ancora riscossi. Infine, sono state 77 le denunce per reati in materia di appalti, corruzione e altri delitti contro la pubblica amministrazione.